Io sono il Presidente, è stata veramente una bella serata, una serata socialmente positiva. Credo anche il nostro amico Dott. Blandini che ha presentato la carne sia rimasto soddisfatto dal punto di vista dell'accoglienza. D'altra parte non c'erano dubbi perché il prodotto è veramente di qualità superiore. Noi siamo felici perché ancora una volta abbiamo fatto una bella cosa per i nostri ragazzi. Come tecnico dell'associazione regionale allevatori sono contento della riuscita della serata. È stato possibile far assaggiare alle persone di Grosseto, alla comunità di Grosseto, il prodotto carne delle nostre zone. Carne che viene allevata direttamente sul territorio, cresciuta, nata, cresciuta e nata direttamente sul territorio. Questo è un grosso vantaggio per chi consuma carne e tutte le problematiche.